Incontro questa mattina in questura tra il nuovo prefetto di Padova, Francesco Messina, e i vertici locali della Polizia di Stato, un'occasione per parlare delle esigenze dei cittadini in tema di sicurezza. Padova ha delle richieste, ha delle esigenze quanto a sicurezza, che sono diverse da esigenze di altre realtà. La lucidità di chi ha il compito di garantire la sicurezza in questa realtà, nella realtà padovana, piuttosto che nella provincia di Padova, è rivolta a garantire una risposta che sia conseguenziale all'istanza. Diciamo che questo credo sia stato già attuato, ma nei miei percorsi precedenti è stato un punto di riferimento costante, perché i cittadini devono anche essere parte della squadra che fa sicurezza. Se tu non puoi pretendere che il cittadino faccia parte della squadra che fa sicurezza per quanto gli compete, se non vai verso la direzione dell'istanza del cittadino. La conoscenza tra prefetto e questore risale a quando entrambi i giovani poliziotti frequentavano la scuola di formazione, un ruolo fondamentale, quello della polizia, nella partita della sicurezza. Perché la polizia è coinvolta anche in attività che riguardano l'assistenza ai cittadini. Noi stiamo tra la gente, noi stavamo tra la gente, perché io adesso faccio parte della prefettura, ma le mie origini mi portano ancora a ricordare quanto sia importante che il servizio di polizia serva anche a garantire la sicurezza ai cittadini, non solo dalle minacce che hanno a che fare con la criminalità.